buongiorno a tutti ben ritrovati sul mio canale oggi come di consueto per la categoria testiamoli proviamo un nuovo gioco oggi tocca a red solstice 2 proviamo la campagna e non saprei cos'è questa la difficoltà direi no no ok mi apre steam perché probabilmente sono sono probabilmente espansioni non saprei quindi in ogni caso partiamo con corporation società elysium elysium corporation ok la principale società di marte ed eccelle nella ricerca tecnologica numerose scoperte scientifiche hanno conferito all'impresa un vantaggio militare che solo poche altre corporazioni riescono a guagliare elysium aveva un enorme influenza nella società di marte ma ha concentrato la maggior parte delle sue risorse nella colonia colonia tarsis con le sue truppe operative in tuta da combattimento principalmente sanzionata tarsis nella jed elpida elysium aveva la supremazia totale secondo numeri non ufficiali le truppe da combattimento contavano circa 600 soldati dopo la catastrofe di tarsis l'impresa si è ritrovata senza un capo che con risorse sparse in tutto il pianeta la situazione attuale di elysium è sconosciuta ma si crede che la società sta andando in rovina dato che la maggior parte delle sue truppe da combattimento sono cadute difendendo tarsis è stata distrutta dal solar intanto vi lascio alla intro e come sempre vi ricordo che per se volete vedere questo gioco sul canale 10 mi piace per proseguire con la campagna in ogni caso ringraziamo raven per averci regalato la chi è per averci consigliato questo gioco a buona visione tutti i giocatori sono la progressione tecnologica della campagna eccola qua normale facciamo normale dai tutt'ora c'è la prima volta che la mattina si vediamo un luogo in il luogo martiano non è una star è un planeto che si chiamavano a casa la terra è stata devastata da mutanti due anni fa il nostro sogno è sempre stato di prendere un sogno che si è diventato un sogno primi spazio per facciamo per localizzare la telecamera sul tuo personaggio bene c'è qui allora comandi rts va bene spero che leggiate in caso se è troppo piccolo me lo dite e passo alla modalità in finestra comandi rts usano il mouse per muoversi e selezionare i bersagli funziona similmente agli altri giochi rts in cui devi fare click sulla destinazione per farla raggiungere dal personaggio riesce un controllo maggiore sull'ambiente semplifica il controllo del circondario quando il tuo personaggio si muove va bene oppure posso farlo muovere io no quasi quasi userò però dice consigliato rts per muove personaggio vengono modificati anche alcuni altri comandi come spazio e per interagire con gli oggetti quando 7 comandi garantisce l'esperienza di gioco vicino a quello ottenuto usando twin stick ma allora ma direi per ora passiamo su buzz e poi ve lo vediamo ecco però mi sembra più bello bella la luce mi piace carino miglioramento alla barra di rianimazione gioco una barra medica che rianima il giocatore ok questo cos'è? ah ok di ogni mossa che passa gli spara va bene ok primary metabolism fully recovered welcome back executor I'm Emma an artificial intelligence program in the service of the founders I will continuously update your map with markers and plot a course to rendezvous with a nearby marine team pinned near the helipad ok ok quindi in qualche modo si può anche sbloccare la telecamera bene direi che la modalità automatica potrebbe essere la migliore B ruota la telecamera ok e quindi qua me la fa girare nell'altro verso n un po' scomoda però va bene e era interagisci con l'oggetto tab la mostra la mappa ok abbiamo iniziato qui abbiamo fatto qui e qui ok perfetto va a vedere anche le porte quindi comodissimo e praticamente per interagire con le porte le sfondiamo j j ah si l'abbiamo già detto fate ora spara in automatico ok ok queste sono munizioni primarie che però mi sembra che abbiamo in abbondanza alcuni oggetti sono collegati ad esempio un termine ad esempio un terminale apre una porta ok ok allora queste mi sa che quindi ne abbiamo ah no andavano prese ok perfetto un po' di roba ok qua non si va da nessuna parte vero no si poteva ricaricare prima allora perfetto ah però ricaricando sprechiamo le munizioni ok abilità attiva abilità sistema vuol dire usare l'abilità usare l'abilità consuma energia e si genera automaticamente ok se abbiamo già raccolti prima ok questa dimensione caricatore questo non si può passare usa gli oggetti del tuo inventario ah ok tipo una granata tipo così ok p mostra il tutorial per l'interfaccia di base ok va bene andiamo avanti direi e la tab la mappa direi qui se abbiamo già controllato qui anche qua passaggi non ce n'è quindi andiamo avanti durante il combattimento guadagni punti esperienza ok mi sembra giusto ehi non sparavi in automatico ok ok vedete l'abilità automatica così non si corre cos'è? l'abilità automatico è utile nel corrido dei secchi stretti me l'hai già detto ok ah ogni volta me la disattiva ma la tenesse attivata sempre è per questo che è utile la modalità automatica ok bocca uno e gli spara diretto allora di qui cosa ci si vede? un tipello magari intanto gli spariamo già qua uh 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 ci hanno fregato maiuscola mira manuale attivabile ti permette di attaccare i bersagli liberamente ho scappato una maggiore lentezza nei movimenti ah ok è quella di prima ok ok in realtà l'ho già fatto perché il maiuscolo è questo è shift ah no era contro cioè il blocco maiuscolo ok che è uguale a shift praticamente non cambia niente ok tasto che va bene per entrambi dobbiamo ricaricare a breve ecco qua allora non male sta cosa che ricaricarti fa sprecare munizioni perché è più realistico invece che come al solito ricaricare ogni secondo dal tasto destro del mouse puoi usare la mira manuale rapida ok e ogni volta disattiva la modalità automatica quello se la tenesse non sarebbe male eh ecco qua vediamo di spararli vediamo di spararli ok lì intanto l'abbiamo fatto fuori hm un po' di munizioni va bene infatti mi sembra di capire che questi potrebbero essere infiniti della prima arma ma solo il questo ti aumenta un po' il caricatore ok gli armi secondari sono potenti ah si passa con Q interessante ok e la modalità automatica però c'è solo per la prima ok ok qua è chiuso aspettiamo che vada via il fuoco che immagino che ci faccia danni ok alleluia dopo la morte una delle tue abilità si romperà potrà essere riparata col tempo o con una cella d'energia va bene se ce la fai a sparargli ah no spara via la porta ok vediamo se riusciamo a passarci di fianco direi di si fare vicino ai barricati finisce un bonus da combattimento ok stimolanti a cosa serviranno per ora non ce l'ha ancora detto ah queste sono le abilità ok quindi salendo di livello prendiamo questa abilità qua la nostra attivazione è 50 ok sono questi sotto e abilità di recupero a 40 secondi serve per curare o tirare una granata ok non da pure dal nulla sti maledetti questo ha pensato fosse una porta e invece no si corre o non si corre ah ok qua mi dice quanti colpiò e qui quanti caricatori allora forse vediamo la modalità automatica attaccherà ogni bersaglio nel raggio d'azione con un ritardo l'avevamo già attivata vediamo se caricando passa a 18 mmm ricarica 18 si ok quelli sono caricatori allora ok i caricatori ne abbiamo parecchi mmm abbiamo visto che nella mappa vediamo anche i nemici allora volessimo entrare di qua per ora non si può si può di qui questa porta è chiusa non si può per ora no eventuali altri accessi no e anche di qua è chiuso ok niente per ora non si entra una tempesta bella torretta bella torretta è esplosiva qua ok mettiamola qui mettiamola qui in location che ho designato per maximizzare la efficienza in arrivo per i fondamenti vediamo ce l'è un botto ora scappa da lì che arriva al culmine ci ha rotto il campione Stroll vediamo speravo di prenderlo per provare a vedere uno, l'abbiamo preso, ce ne manca ancora uno ci mancava quello che potevamo prendere Cosa dobbiamo fare qui? difendi il perimetro, ok ora possiamo arretrare tranquillamente mięte mięte quindi dobbiamo andare avanti ora quindi prendiamoci gli esplosivi poi distruggi la parte e colloca un saccello ok andiamo a vedere qui no ah ecco proprio la parete infatti dove volevamo passare prima ma non potevamo aumenta e si ricarica ogni volta che analizzi i pezzi importanti di scroll trovate uccidendo nemici ah bene bene ci da dei bonus ok ora qua possiamo posizionare questo ok private stay back watch out for the explosive radius mh yes sir e poi as eternare con g ok perfetto qua ce n'è altri qui non è di quelli grossi stasso c'è fuoco amico qua mi sa che fa danni no benissimo inventario pieno eh stimolanti munizioni secondarie munizioni esplosive spezziamole ok inceneritore di savage aumenta la capacità di combattimento e converte il tipo danno in distruttivo ok urca ce n'è uno grosso vabbè l'abbiamo già seccato vediamoci un altro campione stroll fai fuoco con il solar quale cavolo è il solar no solar allora granata azoto carica sacce stimolanti secondari inceneritori e munizioni primarie vuol dire fai fuoco con il solar ah ok semplicemente do tenerlo premuto sta caricando ok ok allora questo è il solar e quindi direi facciamo fuoco qua ok è bello Grazie a tutti. 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 Continua per proseguire. Se vuoi saltare questa parte di tutorial, scegli la spunta Mostra Tutorial. Dovevi proseguire. Questo era il primo combat firing, che inadvertently distrò tutta l'infrastruttura di Mars. A parte di periodo a sinistra c'è la schermata Risorse, ok? Corte. O praticamente la valuta, la moneta. All'inizio di ogni settimana ricevi una nuova consegna di questa risorsa dalla zona controlli. Questo è il tuo QG predefinito. Posizionando avamposti nelle regioni accederai anche alle risorse delle scorte e aumenterai la quantità di infundimenti acceduti dalle consegne settimanali. Tutorial, quindi schieramento, questa risorsa viene utilizzata per gli schieramenti delle missioni in combattimento, ok? Per esempio potresti rallentare l'arrivo dei nemici sul campo, oppure attendere dell'artiglieri di supporto extra che diminuirà la salute generale dei mutanti, o ancora aumentare la quantità di rifornimenti sul campo per i tuoi soldati. E viene ripristinata totalmente all'inizio di ogni settimana, allora va usata. Specialisti sono le unità non combattenti a tua disposizione. Come impostazione predefinita, sono ricercatori che contribuiscono a velocizzare lo sbocco di nuove tecnologie. Puoi anche assegnare i loro compiti di ingegneria per costruire oggetti. Una volta completati, gli specialisti tornano alla ricerca. In ingegneria possono essere anche addestrati come soldati per schierarli in combattimento. Destrandoli come soldati, li rimuovi permanentemente dai specialisti disponibili. Ottenere nuove specialisti è difficile. Le rare missioni di scansione possono trovarli, ma nella maggior parte dei casi li ricevi come ricompensa delle missioni di combattimento. La differenza di scorte e schieramento non li ottieni settimanalmente su una risorsa molto più rara. Spionaggio globale Ogni regione ha un contattore di spionaggio che indica quante informazioni possiedi su di essa. Il spionaggio globale è una media di tutto lo spionaggio della regione contattata. Mantieni elevato lo spionaggio globale per contribuire a velocizzare i progressi di ricerca e ingegneria. Barra d'accesso rapido alla strategia. In fondo c'è la barra d'accesso rapido alla strategia. Al centro puoi accedere facilmente a risorse strategiche importanti come la navicella, la superarma e il QG. Sull'altro lato puoi vedere le missioni disponibili sulla mappa. Le missioni di combattimento sono sulla sinistra, quelle di sconsigni sulla destra. Ok. Qui nella parte superiore centrale dello schermo trovi i comandi della scheda strategia. Selezionandone uno accederai ad aree differenti. Nell'arsenale puoi prepararti alle missioni di combattimento cambiando equipaggiamento e soldati. Il mappamondo ti permette di vedere lo stato attuale di Marte. Strutture ti garantisce l'accesso al tuo quartiere generale. in cui potrai ricercare nuove tecnologie e costruire nuovi oggetti e migliorare il quartiere generale stesso. Archivi include molti dati. Ti permetteranno di visualizzare lo stato dei mutanti stroll che hai incontrato. Inoltre gli archivi possiedono delle schede per gli oggetti e gli effetti. Oltre a molte informazioni di tattiche per aiutare il comandante a prepararti per la battaglia. La scheda profilo ti fa accedere al tuo profilo personale. Qui puoi ottenere molti effetti benefici per la tua campagna. Ok. Un po' sarà una sorta di livelli qua. Salvataggio d'emergenza. Inizia le scansioni a regione ricorrente con la navicella. Questo è l'obiettivo della campagna. Qui in alta a sinistra sotto alle risorse puoi trovare gli obiettivi principali della tua campagna. Orologio. Qui nella parte inferiore a destra dello schermo trovi l'orologio del mondo. Ti aiuterà a tenere d'occhio la data e l'orario attuale della tua campagna. Fatta roba che c'è. Infestazione globale. Al centro dello schermo sotto le schede trovi la schermata infestazione globale. Misura il livello di infestazione di marte. Se il numero diventa troppo alto scatta un conto alla rovescia di due settimane per la distruzione totale. Se non riesci ad abbassare il valore di infestazione globale prima che scada le due settimane avrai felito la campagna. Un po' tipo XCOM. Per scorrere il mappamondo puoi tenere premuto il pulsante sinistro del mouse mentre trascini lo schermo. La tua navicella rappresenta il modo in cui interagirai con gli elementi del mappamondo. Si utilizza per cercare le missioni di rifornimento e le regioni. Oltre che per raggiungere le missioni di combattimento. Se perdi vista la navicella puoi premere la varia spezzatrice per centrare la visione su di essi. Ok questa è la navicella. Possiamo muoverci così e con spazio e metterla al centro. Benissimo. Direi che per oggi va benissimo. A 10 mi piace proseguiremo con la nostra partita. Il gioco mi ispira abbastanza. Quindi sarei molto curioso di provarlo. Quindi mi raccomando 10 mi piace e andiamo avanti. Come al solito alla prossima e grazie per la visione. Ciao ciao.